mamma mia da dire che sicurezza ecco la regina sono sicuro è questo il badecchio? è un telefono è una macchina è una macchina se stessi le sono segnate è una macchina se stessi le hanno guardato il giro avevo guardato il teso ecco il badecchio avevo guardato il teso avevo visto il badecchio e stavano aggazzare per la stifo Grazie a tutti. Stai a chiamare. Attenzione prego, viviamo conto dei risultati dagli altri campi della Serie C.